Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti in una nuova live, come state tesori? Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Allora, com'è nata questa intervista? È nata un po' sul filo del rasoio, perché io e il personaggio di oggi siamo un po' inseguiti, annusati, clippati, perché mi sono arrivate delle clip dove parlava del pub dell'amico, era passato al pub dell'amico così, alla volée, in chat, però aveva dato un'occhiata, infatti questa sera credeva di essere al pub dell'amico, in realtà non lo è, è un'intervista normale, ma ho preso la birra apposta per farlo sentire più a suo agio, e alla fine, proprio all'ultimo, oggi ci siamo organizzati ed è riuscito a venire, quindi do il benvenuto, senza tanti altri rigeri, ad Alessandro, scusami eh Dario, adesso io non so, mi senti? Sì, ti sento e ti vedono anche, tra l'altro. Bene, io invece non sento una mazza, aspetta un attimo, aspetta un attimo, ok, adesso proviamo a sistemare questa questione, Dario, sono quello che finora ti ha già fatto perdere più tempo di tutti? Ma non ti preoccupare. C'è stato qualcosa, no? Peccato perché ci tenevo, io ci tengo ad avere dei primati. Ok, adesso anch'io sento te, fantastico. Andata, via, meno male. Grazie, grazie anche a Valerio. Grazie Valerio, grazie Angelo Cuscoli. Scusami, messaggio per Valerio, sappi che se dovesse risuccedere non ho capito assolutamente niente di quello che hai fatto, quindi saremo punto a capo, però intanto ci godiamo questo momento. Ciao Dario, come stai? Sto bene, te come stai più che altro? Tutto bene, tutto bene, tutto a posto. Sto cercando di vincolarmi in questa giungla di tecnologia... Ah, aspetta, aspetta, aspetta! Alla tua! Alla tua. Alla tua. Che non mi è propria. No, no, infatti di solito quando qualcuno viene qua, si parte sempre dall'inizio della carriera per arrivare fino ai giorni nostri, no? Però stavolta voglio fare al contrario, cioè farti una domanda che parte dalla fine del tuo percorso, cioè Twitch. Come mai hai deciso di venire qua su Twitch? Ma ho deciso di venire su Twitch, ne ho parlato un po' con i primi fedelissimi ragazzi con cui ho avuto occasione di trovarmi in chat. È una curiosità che mi è venuta durante il primo lockdown, quindi praticamente un anno fa. Sì. Perché si stava un po' in casa, hai più tempo per smanettare sul telefonino, era una piattaforma che conoscevo di nome e sapevo a grandi linee di che cosa si occupava, cioè principalmente di gaming. E ci avevo fatto un giro e avevo visto che iniziavano a però prendere piede anche un po' i canali di chat, insomma, di qualcosa che fosse simile a un podcast piuttosto che a quello che io faccio di base in radio, eccetera, eccetera. Chiacchieranno un po' con amici, Rovazzi, uno dei primi, ho visto che lui era sul canale e si divertiva anche a giocare a Warzone, cosa che faccio anch'io di solito. Ti ho visto anche con Power, oggi hai giocato con Power. Sì, sì, con scarsissimi. Spero che tu abbia visto gli ultimi tre secondi, perché ho fatto cagare per due ore, ma negli ultimi tre secondi ho condotto il mio team alla vittoria con una kill incredibile. Ma non ti ha carriato, come si dice? L'unica che ho fatto in tutta la giornata. Cioè non ti ha portato alla vittoria, Power, ti ha insegnato qualcosa, hai scoperto tutti i segreti di Warzone grazie a Powerone? Allora, sicuramente mi ha carriato, sicuramente ci prova a insegnarmi qualcosa, ma ha un alunno con pochissima capacità di apprendimento, cioè me, e quindi non vedo grandi miglioramenti in quello che io faccio. Però lui ci prova a insegnarmi delle cose, lui e tutti gli altri, insomma, cercano di portarsi un po' dietro questo zaino. Però io diciamo che passeggio insieme a loro, è come se io fossi un fotoreporter. Loro si occupano della parte di combattimento, io sto lì, guardo le situazioni, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, durante il primo lockdown ho detto, cavolo, sarebbe bello provarci, ma con l'ingenuità di chi pensava che fosse molto più semplice dal punto di vista tecnologico. Cioè io pensavo che, non dico con un telefonino, ma con due, si potesse fare tutto. Invece poi Fabio Rovazzi mi ha spiegato un po' tutto l'armamentario che lui aveva preso. Ho iniziato pian piano a contattare gente che sapeva come ci si comportasse, tra cui Valerio, che mi ha appena salvato la vita, che mi salva la vita in ogni live, perché non sono mai riuscito a farne una dall'inizio alla fine senza aver bisogno dell'intervento di Valerio. E quindi pian pianino ci ho messo 8-9 mesi e poi ho fatto il mio esordio prima di Natale su Twitch. Mi è subito piaciuto, tanto che ci ho passato anche più tempo di quello che immaginavo avrei fatto. Adesso poi nelle ultime due settimane, insomma, sta ripartendo un po' il lavoro, quindi ho meno tempo. Però oggi sono contento di essere venuto qua. Mi ero anche dimenticato di aver preso appuntamento con te questo martedì, pensavo fosse martedì prossimo, però vedi che il fatto ci è venuto incontro e siamo riusciti a vederci lo stesso. Ti capisco, ecco, anche io ho grossi problemi di memoria, grossi problemi su Warzone, quindi... Ma tu tieni un palinsesto, tieni un palinsesto? Sì, 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 una specie. Sei palinsestato fisso, cioè hai i tuoi impegni fissi. Sì, sì, sì. Ecco, te per esempio hai trovato... Io lo farò solo quando avrò anch'io una sedia come quelle che avete voi. Quando avrò anch'io una sedia da... Sì, non lo so, ma quando capiterà allora palinsesterò. Non sai scegliere la sedia giusta? Mi ricordi qualcuno? Non so dove andarla a cercare, non so neanche come si chiamano. Come si chiamano quelle sedie lì? Sedia da gamer. Sedia da gaming, sì, però vabbè. Sedia da gaming. Sì, portrone da gaming, eccetera. Ecco, ma hai sentito... Cioè è stato un trauma passare dalla TV a Twitch? Hai notato delle differenze grosse, piccole, oppure sei andato liscio come l'olio? No, allora, no, ci sono differenze enormi e soprattutto non l'ho vissuto come un passaggio. Cioè, una delle prime cose che raccontavo a chi si era iscritto al canale o anche semplicemente lo seguiva, mi dicevano, ah, quindi adesso fai Twitch. No, no, io continuo a fare il mio lavoro che è in televisione. Diciamo che lo trovo un passatempo più stimolante. Se devo perdere del tempo sui social network è meglio di Twitter, per esempio. E immagino sia meglio di Facebook, anche se Facebook l'ho abbandonato anni fa. Insomma, mi sembra una piattaforma più stimolante dove passare del tempo libero, ecco. Però lo sto utilizzando veramente in quel senso. Rispetto alla televisione ha differenze gigantesche. Per me è forse fin quasi più difficile qui perché sono vagamente responsabile di quello che schiaccio. Cioè, a me è la parte di controllo che mette ansia. Poi quando il microfono funziona e la camera anche, mi sento a casa mia. Essere quello che deve anche occuparsi di far funzionare il microfono e far andare la camera, quello mi crea un po' di difficoltà. Ok, vabbè, l'autogestione, il problema è che te, ovviamente, sui tuoi programmi, avevi una regia, insomma, una cabina di regia, penso che... Sì, mi devo occupare, diciamo, solo del contenuto. Ecco, invece qua mi devo occupare anche della forma. Ma tu invece vorresti, cioè, pensi alla televisione, sei nato su Twitch, immagino tu sia uno YouTuber da prima? Sì, 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 sì. Si è partito come YouTuber. Sì, sì, sì. Ma è quello che volevo capire invece, quanti anni hai, Dario? Trenta. Trenta. Tipo, uno che fa quello che fai tu. Mhm. Sente l'esigenza, cioè, per me che faccio la TV, Twitch è un di più. Per te che fai Twitch, YouTube, eccetera, senti l'esigenza della televisione o ormai è completamente passata quella cosa lì? Allora, no, sì, allora, non è che... Io vivo molto alla giornata, ma anche lo stesso Twitch è come viveva la giornata YouTube, cioè, guardo cosa mi va di fare e la faccio. Il mio problema è il linguaggio che utilizzo, il modo di fare che ho io, che è poco televisivo. Vabbè che ora la televisione è più sporca, anche la radio soprattutto si può fare un po' di tutto, però diciamo che la cornice del web sicuramente è una protezione in più, perché io sono molto... vivo molta la giornata, ripeto, però chissà, non lo so, tutto può essere. Io non... Però esatto, non è una roba che schifi. No, no, da ragazzo sai sei un po' più ribellino, quindi no, la TV, il web è il futuro. Adesso inizia... Rimarrò indipendente fino a... Sì, 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 ma poi indipendente fino a un certo punto, perché anche quando facevo YouTube e gridavo queste cose, comunque mi pagava YouTube. Adesso mi paga Twitch, che sono comunque multinazionali americane. Certo. Quindi sei indipendente una bella sega. Fino a un certo punto, chiaro. Poi comunque anche qui Twitch, sai bene, ha dei paletti, non è che puoi proprio dire tutto, tutto, tutto o fare tutto. Il mio sogno è l'Eric Andreshow, per me quella sarebbe la vetta della mia vita, ma non si può fare l'Eric Andreshow in Italia, almeno per ora non si può fare. Che cos'è? L'Eric Andreshow è uno show americano dove praticamente si invita un ospite ed è una parodia estrema. Ma è quello nello studio senza pubblico... Sì, è Riccardo? No, 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 certo, certo, certo. Cioè la parodia dei talk show che hai fatto anche tu, tra l'altro. Sì, 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 sì. La parodia estrema. Dove a un certo punto crea situazioni dove escono gli zombie da sotto il tappeto o il cazzo da sotto il tavolo. Sì, 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 sì. Sì, 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 ho capito. Sono l'ospite praticamente invece di accoglierlo. Ma lui è un attore? Nasce come attore? Un po' tutto. Lui è un performer, fa qualsiasi cosa che ha indicamera estreme. Sì, 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 è bello fuori. Però mi piace che io sono cresciuto con Jackass, quindi sai bene che... Anzi, poi ne parleremo del tuo percorso su MTV, perché comunque Jackass è molto legato anche a MTV in Italia, quindi ti volevo chiedere qualcosa anche su quello. Ecco, io tanti anni fa feci un documentario sulla TV dei ragazzi perché mi interrogavo in questo documentario sulla morte della TV dei ragazzi, ho intervistato addirittura Frizi, Bonolis, tutti, riuscì da solo a contattarli su Facebook a fare questo documentario. E te hai partecipato, perché mi è venuto in mente quando ti ho invitato, hai partecipato a uno degli ultimissimi programmi della TV per ragazzi poco prima della morte, cioè Ziggy. Ziggy! Io me lo ricordo con affetto, perché ero proprio piccolo piccolo, avevo 13 anni, e mi puoi raccontare la tua esperienza? E se mi sai dire la tua riguardo alla morte della TV dei ragazzi, perché secondo te è finito il programma contenitore? Allora, quel tipo di TV dei ragazzi per bambini, in maniera anche molto poco riconoscente, perché la TV dei bambini funziona, ha sempre funzionato, perché tutti siamo stati bambini, no? E per tutti noi bambini è stata importante quel tipo di televisione. Io faccio parte della generazione bim bum bam, no? Quindi c'erano degli orari ben precisi, stabiliti, determinati, in cui i tuoi genitori ti potevano parcheggiare serenamente davanti alla televisione, perché non c'era niente di male, c'era bim bum bam, c'era Paolo Bonolis prima e poi chi è venuto dopo, Bat Roberto, eccetera, eccetera, eccetera. Ti vedevi i tuoi cartoni, posto che erano cartoni che avevano una crudeltà maggiore delle serie più cruente di Netflix e di Amazon in questo periodo, perché comunque recentemente, sempre durante il lockdown con le mie figlie, ho visto alcune vecchie puntate di Kismi Licia, e comunque c'era Satomi che a un certo punto, per una gelosia nei confronti di Licia, perché limonava con Mirko, si è alcolizzato al pianoforte fumando come un turco, è arrivata la signora delle pulizie a dirgli calmati Satomi, lui l'ha mezza picchiata e è uscito in macchina ubriaco, cioè c'erano delle cose assolutamente... Però insomma, potevi stare davanti alla TV. E quindi ti dicevo, con molta poca riconoscenza, se è vero che Zig, il programma a cui ho partecipato io, è stato l'ultimo, diciamo quello che ha sancito un po' la morte di quella TV di genere per i ragazzi, io in maniera molto poco riconoscente nei confronti di tutto ciò che la TV dei bambini mi ha dato quando ero bambino, ho danzato sulla tomba della TV dei ragazzi con grande allegria, perché io detestavo fare quel programma, perché avevo vent'anni, perché avevo iniziato a lavorare in TV con la TV musicale, che era una specie di versione scrausa di MTV, però parlava a quel tipo di pubblico lì, quindi per me comunque era bello farlo, parlava ai ragazzi della mia età. Io ero in qualche modo un po' uno dei vari portavoce con cui i ragazzi della mia età si relazionavano, guardando la televisione. Però ero un piccolo canale, il mio agente al tempo, giustamente, cerca di ampliare un po' i miei orizzonti e quindi mi dice, hai vent'anni, sei giovane, hai una bella faccia pulita, parli bene, per arrivare a Mediaset c'è questo spiraglio, secondo me è una cosa che potremmo fare. Scelta giustissima la sua, vado a fare questo programma in cui per i meno giovani, in questo caso, anzi forse per i più giovani, perché i meno giovani magari l'hanno visto, era una specie di cugino del futuro di un draghetto di gommapiuma di cui non mi ricordo neanche più la storia. E quando vado lì a Mediaset, quindi la TV vera nella mia testa di ventenne, ero terrorizzato. Invece incontro persone fantastiche, le persone con cui lavoravo mi avevano accolto benissimo, un clima ottimo. Capisci anche come si fa la TV quella coi soldi, perché io venivo da una TV fatta in uno scantinato, lì capisci la TV quella coi soldi, come si muove, come si fa, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dove pensavo di trovarmi male, ovvero con le persone, quindi un po' come dicevi tu prima, quando hai vent'anni sei ribelle, dici no, internet è il futuro, fanculo la TV, io dicevo le TV musicali sono il futuro, fanculo le grandi generaliste. Quindi dove pensavo di trovarmi male, invece mi sono trovato bene, cioè umanamente con le persone, con la macchina, col sistema e tutto quanto. Ma avevo la morte nel cuore quando dovevo mettermi in scena di fianco a questo pupazzetto, perché io ero un ragazzo di vent'anni che si credeva un figo e pensavo ai miei amici della mia età in provincia, cioè il mio riferimento non era il pubblico, erano porco giù dei miei amici, ma se mi vedono, cioè io stavo con loro a Tortona, abbiamo la cumpa, andiamo in giro, facciamo le cose, usciamo, andiamo a bere e se accendono la televisione di domenica mattina mi vedono di fianco a un draghetto di gomma piuma e morivo dalla vergogna. Quindi questo programma andava molto bene, perché era un programma fatto molto bene, giustissimo per i bambini, che io da bambino avrei fatto e io alle mie figlie avrei fatto vedere, però non so come mai a un certo punto finisce, cioè non so come mai ai tempi, perché non me lo chiedevo e quando mi dicono che finisce mi ricordo ancora il giorno in cui tutta la produzione era triste e io ero felice come se fosse il mio compleanno, perché avevo la scusa per non andare più a farlo e quindi hanno chiuso quel programma e io ero impazzito di gioia, nonostante appunto con le persone stavo bene e credo che sia tutto finito esattamente come è finita l'epoca della mia tv di riferimento da giovane, cioè le tv musicali, con l'avvento di internet e di YouTube. cioè tu sei stato il mio assassino. Ok, no, non credo, però secondo me sai cosa? YouTube però ha cancellato quella cosa perché noi avevamo pomeriggi fatti di aspettare, no? Wonderwall degli oasis, dovevi metterti lì e aspettare che qualcuno decidesse che era il momento di farti vedere quel video per tre minuti e poi non sarebbe più successo per varie ore. YouTube ti dava la facilità di decidere Wonderwall mi piace, me la voglio vedere 90 volte di fila, che cazzo, me la guardo 90 volte di fila e quindi ha cancellato il senso e l'utilità delle tv musicali. Sì, quello è vero, quello più, secondo me nel 2010-11, quando vabbè YouTube era praticamente dappertutto è avvenuto questo cambio. Secondo me invece la tv dei ragazzi a inizio nel 2000 è morta perché si voleva mettere più pubblicità, quindi fare più soldi e ovviamente programmi per adulti funzionavano di più e soprattutto mette 200 cartoni intervallati da 100 pubblicità era meno dispendioso rispetto a mettere qualche puntato qua e là con una regia, uno studio, i personaggi, i sceneggiatori e tutto e quindi hanno annullato quell'effetto di... Tu dici fare il flusso. Sì, sì, proprio sparare a pubblicità con cartoni e basta senza pagare presentatori, sceneggiatori, scenografi, capito? È molto più vantaggioso. Però chissà, chissà, non lo sapremo mai con certezze. Era ovviamente in un certo senso abbastanza inutile. Poi penso a Dark Attack che è andato avanti, però forse, magari mi sbaglio, però è andato avanti un botto ancora. Qualcosa di più, sì, sì. Forse sì, perché il bambino si era anche molto legato alla figura del presentatore, non lo so. La cosa però, il tema della pubblicità nei programmi o nei palinsesti dei bambini, io me ne sono accorto avendo dei figli, però è un tema interessantissimo. Per esempio, prima figlia nasce, Netflix ancora non c'era, c'erano i canali tematici di Sky che avevano la pubblicità. Quando arriva ad avere due anni e mezzo, tre anni, insomma, soprattutto alla prima non abbiamo mai fatto vedere tanta televisione, la seconda la vedeva di riflesso sulla prima che nel frattempo era diventata più grande, però da piccolina non le abbiamo mai fatto vedere tanta televisione. Però quando arrivava Natale andava in una specie di confusione mentale. e tu le chiedevi, Nina, che cosa ti piacerebbe avere per Natale? Ti chiedeva tutto, cioè la vedevi che era in sbattimento da tutte le cose che voleva perché erano tutte cose che aveva visto nelle pubblicità dei palinsesti per bambini. L'anno dopo arriva Netflix, inizia a guardare i cartoni animati su Netflix che non hanno pubblicità. Il Natale dopo le abbiamo chiesto che cosa vuoi per Natale e ci ha risposto dei pennarelli. L'anno prima voleva qualunque giocattolo sulla faccia della terra, tutto, chiedeva, volevo la bambola che piange, i cavalli che saltano, le cose, perché viene bombardata e lì è stato un acceleratore di comprensione della capacità penetrante della pubblicità quando è sul target giusto. Cioè, quando tu metti la pubblicità sul target giusto gli fonde il cervello. Decisamente sì, anche io ero così, io vedevo le pubblicità alternate a bim bum bum. Ma che io volevo tutto. Io a un certo punto volevo Baby Mia, che era chiaramente per bambola, io volevo Baby Mia, mi piaceva talmente tanto la pubblicità della bambola che piangeva. Io volevo Baby Mia. È incredibile. Dipende, quando guardavi i cartoni ti beccavi le pubblicità solo per ragazze, volevi le robe che compravano le ragazze. Erano invitanti, volevi le cucine, erano molto interessanti. Sì, sì, sì. E ecco, allora quando poi l'anno dopo sei andato a MTV, ti sei, cioè le tue aspettative sono state soddisfatte? Hai trovato la TV che volevi fare oppure no? C'è stato qualcosa che ti ha deluso? Allora, i primi anni a Viva sono stati fantastici per un motivo. Non ci guardava nessuno. Cioè, avevi le possibilità della TV musicale vera, ma potevi veramente fare e dire quello che volevi perché nessuno ti cagava. Quindi, cioè, avevi un pubblico ma non c'era l'attenzione a quello che dicevi. Ok. E quindi avevi solo i vantaggi, no? Io una cosa che racconto spesso è che essendo noi la versione sfigata di MTV, MTV, per esempio, con gli ospiti, io facevo l'unico programma in diretta, no? Del pomeriggio, quindi quello che aveva gli ospiti musicali. Mentre MTV faceva selezione all'ingresso, cioè, tu a TRL ci andavi se eri una pop star da ospite, no? Altrimenti no. Noi prendevamo su tutto e nel prendere su tutto è come quando vai in un fiume a setacciare ed è quasi tutta sabbia, però in mezzo alla sabbia trovi qualche diamante e, per esempio, la prima apparizione televisiva di Tiziano Ferro l'ha fatta da me. Ah, ganzo. Perché ai tempi Tiziano Ferro era piccolino, poi devo dire lui ha avuto un'esplosione velocissima, quindi la settimana dopo era già anche MTV perché che sarebbe diventato un figo era chiaro fin da subito però la prima cosa l'ha fatta con me lì. Io ho avuto ospite Shakira quando non se la cagava ancora nessuno e quella di cui sono più felice e emozionata ancora quando la parlo Amy Winehouse ha il primo disco, il disco prima di Rehab era venuta a fare un live nel mio programma e queste erano cose belle poi, cioè sono cose belle che ti porti dietro che fanno parte di quella gavetta sono le piccole gioie di aver fatto il Vietnam no? Nel senso eravamo in una situazione veramente in uno scantinato andavi lì la mattina poi a me piace fare lavoro di redazione no? Quindi anche se io servivo solo nell'ora del mio programma stavo lì la redazione guardavo cosa facevano gli altri buttavo giù cose idee cercavo di partecipare quindi entravo la mattina col buio e uscivo col buio cioè c'erano giornate in cui non c'erano finestre e non vedevo il sole mai però avevi queste piccole soddisfazioni quando vai a MTV ti svolta la vita cioè MTV in quel periodo era la cosa più figa che un ragazzo vagamente della mia età potesse guardare in televisione chi ci lavorava era il più figo dell'universo facevamo delle delle puntate live di TRL on tour dalle piazze finiva il programma cioè quando io finivo viva me ne andavo via con due o tre dei ragazzi che lavoravano lì avevamo un bar marcio dove andavamo a berci due birrettini non ci cagava nessuno MTV io finivo di fare TRL ti portavano via con la macchina con le ragazze che ti inseguivano per tre semafori a piedi ti sembrava di essere i Beatles cioè MTV in quegli anni era una cosa era una cosa incredibile e forse addirittura qualche anno prima era ancora più grande io sono arrivato nel periodo in cui era settata e poi avrebbe iniziato qualche anno dopo un po' a scendere perché stava iniziando ad arrivare internet come dicevamo prima però erano degli anni fighissimi giravi il mondo ti mandava ti mandava in tutto il mondo io ho fatto un'estate dove mi hanno mandato a vivere a Las Vegas io sono stato a Las Vegas un mese e mezzo che credo che nessuno sano di mente stia a Las Vegas un mese e mezzo perché è un posto dove stai tre giorni muori però andavi dappertutto ti facevano girare a TRL veniva Beyonce lunedì Justin Timberlake il martedì cioè avevi un contatto con quello che avevi sempre sognato che è difficile da raccontare e è irripetibile cioè in Italia anche la RAI o Mediaset che hanno un budget straordinariamente più grande quella cosa lì non ce l'avevano perché Beyonce quando veniva in Italia sapeva che cos'era TRL non aveva idea di che cosa fosse la RAI o Canale 5 ma sapeva cos'era TRL e veniva TRL e ti metteva in contatto con tutto quello che avevi sempre sognato erano anni fighissimi no immagino penso ma più che altro eri giovanissimo cioè te hai vissuto queste robe quando eri poco meno di un 25enne credo no? quindi sì 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 ho fatto 20-24 all music 24-27 28 MTV madonna santa quanta roba in pochissimo tempo poi immagino di sì eh poi erano gli anni belli cioè paradossalmente abbiamo vinto i mondiali nel 2006 mentre noi eravamo in tour con TRL in tutta Italia quindi quel mondiale lì l'ho visto un po' a Trieste un po' a Riccione un po' a Bari tutti sempre insieme con la crew del programma che si muoveva era una carovana che andava in giro cioè ho dei ricordi di quegli anni che credo che siano impagabili essendo nato in Italia credo che non avrei potuto avere occasione di vivere meglio quegli anni di come mi è andata vivendoli con MTV mi ricordo che quando vi vedevo in tv già sognavo di diventare il VJ perché il VJ per quelli della mia generazione era il massimo a cui si poteva aspirare cioè gli artistoidi che volevano comunque già lavorare con i video il montaggio cercare di raccontare qualcosa volevano tutti fare il VJ io ho detto no vabbè ma io non lo posso fare perché non so bene l'inglese no perché è una cioè mi ricordo che andai anche da ragazzino sul sito di MTV dove c'era potevi inviare il curriculum cercasi VJ? sì e c'era tipo scritto richiesta una profonda conoscenza dell'inglese io chiusi il sito e ciao grazie un po' serviva serviva abbastanza qual è l'episodio più surreale che ti ricordi di quel periodo lì proprio più assurdo allora ce ne sono una valanga guarda recentemente ho visto il documentario su Britney Spears Britney Spears del secondo disco quindi fa il primo disco è un botto secondo disco annunciato come una roba epocale esce il film suo crossroad mi pare viene in Italia per le interviste essendo legata al film va più su Roma che su Milano quindi non viene in studio non viene in studio a Milano ma è a Roma per far la promo del cinema quindi andiamo a intervistarla a Roma andiamo a intervistare Britney Spears iniziamo questa intervista come fossimo io e te adesso inizia l'intervista ma veramente la prima cosa era proprio il riscaldamento ciao come va benvenuta come stai così lei inizia a rispondermi poi dopo un secondo si ferma e inizia a piangere a dirotto davanti a me inizia a piangere erano i primi i primi segnali che qualcosa qualcosa insomma non andava perché questa comunque era una ragazza che da giovanissima era messa sotto una pressione che avrebbe piallato chiunque e quindi io inizio a guardarmi intorno come per dire ma voi che la conoscete è normale questa cosa qua e la portano via la portano via e l'intervista salta e questo è questo è un aneddoto un altro è viene Kid Rock a TRL io ho fatto due anni in cui sono andato a dare il premio agli MTV Award ed erano sempre un giorno della settimana per cui per due anni di fila facevo la puntata di TRL e poi andavo nella città dove si facevano questi award perché dovevo dare il premio all'italiano un anno era Lisbona e un anno era Liverpool quello erano gli Liverpool alla diretta del pomeriggio viene Kid Rock che poi si sarebbe esibito anche lui il giorno dopo agli MTV Award a Liverpool quindi facciamo la diretta insieme poi io vado in aeroporto per andare a Liverpool aeroporto nel quale trovo Noel Gallagher che era stato lì il giorno prima a TRL col quale mi bevo una birretta in aeroporto che è un'altra roba che se ci avessi pensato quando ero al liceo nel 95 se uno mi avessi detto guarda che un giorno ti berrai una birrettina in aeroporto diceva te sei fuori di testa completamente arrivo arrivo in albergo e sono nello stesso albergo di Kid Rock col quale avevamo fatto la puntata al pomeriggio insieme ed era l'anno in cui facevo TRL con Elena Santarelli arrivo lì in aeroporto e Kid Rock inizia a chiedermi informazioni più dettagliate su Elena Santarelli mi dice ma la ragazza che era con te oggi pomeriggio è molto carina io faccio mazza sì no no carinissima ma mi sembrava anche simpatica no mazza Elena simpaticissima veramente guarda una ragazza che ne trovi poche veramente bella simpatica fa senti ma lei vorrei farla venire qua e io in che senso vorresti farla venire qua no perché mi piace vorrei farla venire qua gli ho detto guarda è fidanzata è fidanzata non è libera ma no ma non importa non importa voglio farla venire qua le faccio prendere un aereo cioè lui era disposto a prendere un aereo che andasse a prendere Elena Santarelli a casa per portarsela lì in albergo perché voleva fare amicizia diciamo e questa cosa poi io l'ho ovviamente come in queste situazioni mi imbarazzo c'era ai tempi il mio producer ho detto parla un attimo con lui che la conosce e mi ricordo che messaggiavo Elena e ci ammazzavamo da ridere dicendo c'è Kid Rock che ti batti i pezzi qua così che vuole mandarti un aereo e ci faceva molto no ma lì un'altra cosa incredibile poi sempre legato ai momenti degli MTV Award un anno vengono a Roma quindi essendo a casa nostra tutti noi andiamo io poi sono molto amico di Federusso la Carolina di Domenico erano quelli con cui mi trovavo meglio quindi andiamo a vedere la serata e poi andiamo a fare feste insieme la cosa bella erano gli after party che c'erano dopo le serate immagino andiamo al nostro after party dove passo una serata da manicomio con i Backstreet Boys c'era Adam Levine dei Maroon 5 che stavano partendo come fama e lui era fidanzato con una VJ spagnola quindi erano lì che essendo fidanzato con la VJ spagnola che comunque era diciamo collega diventava un grado di separazione quindi poi ti trovavi a dialogare con lui la sera prima c'era stata una cena in cui c'erano i Beastie Boys no vabbè con io ero finito te lo giuro sai le cene con i tavoli rotondi sì 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 ero finito io e il nongio eravamo finiti al tavolo con i Beastie Boys e Kanye West con i quali Kanye West non ancora Kanye West aveva fatto College Dropout aveva fatto il primo disco anche lui lì in rampa di lancio invece i Beastie Boys erano i Beastie Boys noi non gli abbiamo rivolto non gli abbiamo rivolto parola però a me che aveva colpito è che si si facevano ascoltare con l'iPod le cose cioè c'era Kanye West che andava dai Beastie Boys e gli faceva no guarda senti no c'ho c'ho sta cosa qua secondo me è figa e tu dici ma io forse sto assistendo alla nascita di una collaborazione Kanye West Beastie Boys o di una nuova canzone che sarà fondamentale ed eri lì ed eri lì però la cosa più bella di quel momento era che Asher quell'anno aveva vinto un botto di premi con Yea minchia era dappertutto con la canzone ovunque ai tempi era fidanzato con Naomi Campbell alla festa c'era ovviamente Asher e arriva Naomi Campbell con il suo regalo di congratulazioni per la vittoria degli MTV Award di Asher che era una tigre quindi lei è entrata con una tigre con una tigre ve lo giuro su Dio con una tigre al guinsaglio un tigrotto cucciolo cioè che fai cucciolo sarà stata una roba così un tigrotto al guinsaglio e gliel'ha regalato e noi tutti come dei pirla fare eh bravo Asher hai vinto il tigre cioè era quel mondo lì era un sogno ma rimpianci quella vita oppure preferisci adesso che sei più maturo saggio le figlie la famiglia perché io non so quanto reggerei una roba del genere mi sento benedetto per averla vissuta in quegli anni perfetto non so se adesso la rifarei cioè adesso che ci ripenso mi viene voglia di rifare una serata così ma quella era la quotidianità non potrei più fare quella quotidianità lì sarebbe anche ridicolo forse fare quella quotidianità lì a quell'età era la cosa più incredibile dell'universo adesso sì cioè pagherei per rifare una serata di quella caratura lì ma di quella caratura lì nel senso di quella spensieratezza lì quel tipo di attitudine nei confronti della vita dove non c'è una preoccupazione non hai un impegno non hai una responsabilità non hai niente puoi pensare solo a divertirti e puoi farlo in quel contesto lì però io credo fortemente che ogni età abbia le sue cose da fare che fa strano dicendotelo a 40 anni su twitch mi rendo conto però no in realtà guarda ho visto che c'è gente che ha anche un sacco di però ogni epoca della propria vita è giusto fare delle cose insomma no no sono perfettamente d'accordo con te anch'io ogni tanto ho bisogno di quella serata che ti svolta ti riequilibra un po' però ultimamente sto tanto a pensare dalla famiglia a mettermi a posta a sposarmi io mi sarei già dovuto sposarmi ma poi c'è stata la pandemia mondiale e mi ha fermato un attimino ah ti ha fregato il covid si proprio ce l'avevo a maggio quindi l'anno scorso ah cavolo l'anno scorso fantastico aspetteremo non è un'occasione per farlo senza dover invitare i parenti e che gusto c'è è bello almeno si spacca tutto beh ma la festa la festa la fai con gli amici dopo intanto però il matrimonio levatelo fallo senza parenti è bello che i miei parenti mi vedano briao che spacco tavolini o l'uccello voglio proprio una festa incredibile capito mi piace molto si 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 ho buoni rapporti bene o male con i miei parenti quindi sono tranquillo diciamo così e invece poi come sei prima ti voglio fare una domanda sempre su questo periodo perché avendo a che fare con tutti questi vipponi enormi come hai sviluppato l'insensibilità nel fare interviste perché io mi accorgo che quando c'è qualcuno di veramente grosso che viene qua o che mi è capitato di intervistare nel passato ho sempre molta agitazione io per esempio leggo molti fumetti quando c'ho di fronte un mangaka che disegna i miei manga preferiti ho sempre molta soggezione te sei andata a briglia sciolta senza pensarci e quindi questo ti ha salvato tipo beata inconscienza oppure ce l'avevi fin da ragazzino questa roba cioè è innata secondo me hai centrato il punto sulla storia dei manga in parte poi hai detto una cosa giustissima anche dopo cioè beata inconscienza ho incominciato a fare questa cosa talmente giovane che non l'ho mai considerata un lavoro cioè la prima volta che ho pensato veramente a quello che stavo facendo come un lavoro è stato quando MTV ha chiuso cioè paradossalmente quando un lavoro non ce l'avevo più ok perché ho detto porca miseria io però avevo iniziato a vivere a vivere di questo quindi mo che si fa e lì l'ho iniziato a considerare un lavoro però prima no e quindi di crescere con questa possibilità di essere spensierati confrontandoti con persone di quel calibro un po' obiettivamente ti abbassa l'asticella dell'agitazione no non lo so se domani devo intervistare uno che non ho mai conosciuto non lo so Gazelle io non lo conosco no se domani devo intervistare Gazelle dico vabbè ho intervistato Beyoncé non sarà un problema intervistare Gazelle però questo è in realtà è secondario la cosa che dicevi tu è quella vera cioè tu se devi fare un'intervista senti un po' di agitazione io credo che tu non ci abbia agitazione con me però se viene uno che fa i manga che sono mi pare di capire la tua passione sì a me succede questa cosa come si dice in inglese lo starstruck no cioè la celebrità che ti metti in soggezione a me capita quando si tratta di una celebrità che era famosa quando io ero piccolo ok paradossalmente paradossalmente ok intervistare Baglioni Claudio Baglioni che era sempre stato in casa mia perché mia mamma era fan di Baglioni io sono cresciuto da piccolo con Baglioni 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 mi mette più ansia che intervistare Lebron James ok che ovviamente non esiste un paragone a livello di celebrità tra Baglioni e Lebron James però è come dire Lebron James è un nome io non l'ho mai conosciuto però se dovesse intervistarlo domani non mi sembrerebbe assurdo parlare con Lebron James mi sembrerebbe tra virgolette naturale va bene non lavoro eccetera nell'ultima edizione di EPCC ho intervistato a parte Dua Lipa che essendo anche proprio giovane Spike Lee Michael Stipe dei Rem se invece devo parlare con uno che era gigante quando ero piccolo e che era rilevante per casa mia quindi evidentemente per i miei genitori o per me da piccolo così quella cosa lì mi mette mi mette agitazione perché in qualche modo mi obbliga a considerare un salto temporale enorme in cui dici porca miseria ma cosa è successo ma com'è che da tortona sono finito a parlare e quella roba lì immagino sia la stessa cosa per te con i manga sì però è anche chi c'ha davanti per esempio io non ho agitazione con te perché perché sei alla mano sei un fiume in piena poi bene o male hai vissuto delle esperienze che ho visto sempre anche io in televisione sembri quasi uno di famiglia vedendoti tutti i giorni in televisione ti ho un po' familiarizzato con te quindi ovvio che sono meno in incitazione però quando c'ho davanti magari un ospite difficile che parla una volta ogni morte di papa che addirittura lo vedi non c'ha voglia ma quelli sono gli stronzi quelli sono gli stronzi cioè perché nel momento in cui tu vieni a fare un'intervista a meno che non sia la prima volta che tu fai un'intervista da ospite o che tu non ne abbia mai fatto una nella tua vita sai di che cosa ha bisogno l'altro ok se io ti faccio una domanda e tu mi rispondi con due parole non è che sei timido sei un po' stronzo perché lo sai di che cosa ho bisogno io cioè dammi una mano siamo qua per lavorare tutte e due aiutami un pochino e quello non ha a che fare con la fama anzi io nella mia poca esperienza ho visto che più sono più sono famosi più sono importanti più ti danno più ti regalano e non parliamone neanche di quando sono stranieri cioè gli stranieri gli americani soprattutto possono essere anche le persone più antipatiche dell'universo ma nel momento in cui si schiaccia il bottone e si incomincia a fare per quei dieci minuti sono i tuoi migliori amici e ti aiutano più che possono perché sanno che meglio viene l'intervista meglio ne escono loro perché sanno cioè sono maestri dell'intrattenimento sanno perfettamente che più ti aiutano e più ne ne traggono beneficio loro sì sono abbastanza d'accordo non è la stessa cosa per i giapponesi perché loro veramente sono problemati è lì culturalmente sì sì è dura lì culturalmente è dura effettivamente però una volta che ti intervisti uno due dieci inizia a capire un po' la loro mentalità inizia a infilarti dentro ecco è uscita un po' vale comunque si cerchi di interpretarli ecco sì 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 buono e poi ti voglio fare una domanda su uno dei miei programmi preferiti di gioventù che è Lazarus che hai scritto tra l'altro e veramente mi faceva era ganzissimo perché raccontavate i misteri dietro le morti andavate proprio su nei luoghi dove sono stati sepolti determinati artisti eccetera cioè quella cosa lì mi affascinava tantissimo e poi era una scusa per raccontare la storia del determinato artista e tutto come ti è avvenuta l'idea del programma dove c'era anche Mandelli allora sì sì l'abbiamo scritto insieme e tra le altre cose a uno di quei retroscena poetici perché lo abbiamo scritto in un pub di via Borsieri a Milano una sera siamo usciti io e lui a mangiare a bere quindi ti mangi un panino sai quei pub che ti danno le tovagliette di carta sì 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 certo ah dove avete scritto magari esattamente mangiamo poi ci beviamo una birretta poi ne beviamo due e poi iniziamo a sparare cazzate su come sarebbe andare a fare il tour dei morti inizialmente noi l'abbiamo proprio buttato giù così il tour dei morti e quindi su questa tovaglietta che si era unta tutta ce l'ho ancora a casa dei miei genitori come come reliquio perché alla fine di quella serata comunque ubriachi non so come mai però invece che buttarla avevano detto questa la teniamo perché un giorno ci ricorderà qualcosa il giorno dopo ci hanno sentito e avevano detto portiamo questa cosa e proprio c'era la lista di tutte le persone morte di tutte le icone pop morte quindi Jimi Hendrix Elvis Presley eccetera 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 le avevamo forse anche divise per tipologia di morte quelli morti male quelli morti cioè avevamo fatto tutta una roba un po' da mezzi ubriachi sul foglio di carta e siamo andati a MTV gli abbiamo proposto ci siamo andati in America a fare questo tour dei luoghi dove le grandi icone Carcobene eccetera 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 sono sono morte e ci hanno detto sì e qua si torna al discorso di prima della grandezza di MTV in quei momenti lì ci ha messo su una squadra di gente che ci ha accompagnato pochi ma non pochissimi ci muovevamo in 8 9 insomma così un bel team presi messi su un aereo e ci siamo fatti anche lì ci siamo fatti quello che per dei ragazzi della nostra età in quel momento era il viaggio dei sogni cioè avevamo 27 anni e abbiamo fatto il cost to cost obbligati tra virgolette a fare tutte le esperienze possibili quindi vivendolo al massimo delle potenzialità che con il viaggio ci poteva offrire e abbiamo scritto il nostro primo programma e abbiamo fatto il nostro esordio da autori e quel programma lì mi sono reso conto poi negli anni che è stato è diventato un cult per un sacco di ragazzi ogni anno c'è gente adesso prima del covid però c'è gente che si fa il viaggio in America e poi mi scrive ho fatto è la prima volta che vengo in America ho deciso le tappe in base a quello che avevate fatto voi ormai 12 anni fa a Lazarus e questo è bello e veramente è l'ennesima dimostrazione come in quegli anni lì i sogni potevano diventare potevano diventare veri mi ricordo ancora la sigla fai conto che la canticchiavate voi due mi pare era Lazarus sì abbiamo preso Lazarus di Nick Cave sì 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 era bellissimo e avevamo mai inventato il testo infatti poi a un certo punto non ci veniva la rima con era sono stato a New York City erano tutti ben vestiti sono stato a San Francisco ho mangiato un canindisco ho incontrato Carco Ben che mi ha detto tutto ben ho incontrato John Lennon anche lui stava ben on e poi era ho incontrato Elvis Presley che mi ha detto Esley perché non ci veniva una rima e quindi l'abbiamo fatto così così al volo ma anche tutti voi sover del racconto di quella di quell'esperienza non erano scritti gli abbiamo fatti un po' modalità jalappas finito di montarlo siamo andati in studio di doppiaggio ci rivedevamo le puntate e il voiceover lo facevamo mentre vedevamo la cosa quindi era quasi un commento a quello che stavamo vedendo no no è stato fighissimo c'è una puntata di cui sei particolarmente soddisfatto magari il personaggio nel genitario in onda beh lì ero stato a casa di Jerry Stahl a Los Angeles che è uno dei miei scrittori preferiti e lo avevo contattato dall'Italia per dire guarda stiamo girando sto programma lui ci ha accolto a casa e sono andato a casa sua quella puntata il nonge era andato con due tipe a Malibu e io invece ero andato a casa di questo scrittore quindi forse aveva avuto ragione lui e mi aveva accolto dentro casa proprio avevamo fatto una chiacchiera lì poi aveva regalato i suoi libri in lingua originale quello era stato bello però c'erano stati mille momenti belli cioè poi in quella trafila vivendo sempre a stretto contatto poi sia io che il nongeo siamo molto amici lo siamo diventati ancora di più dopo quel programma siamo partiti come amici cioè come due ragazzi che si stavano simpatici però abbiamo due ego importanti sia io che lui cioè siamo due persone con un ego decisamente sviluppato e a un certo punto ci stavamo picchiando cioè siamo finiti veramente siamo finiti veramente a metterci quasi le mani addosso a Las Vegas a dirci delle cose pessime cioè ci siamo detti veramente delle robe brutte caso vuole che la tappa dopo si doveva andare da Los Angeles a Las Vegas si andava verso New York quindi si attraversavano gli stati del sud non viaggiamo insieme quindi lui va con la macchina di produzione quella che si arriva per girare quindi lui si fa quel pezzo in macchina io faccio quel pezzo con il greyhound con l'autobus perché non ne potevamo più di stare insieme cioè non ci sopportavamo praticamente più arriviamo a Memphis fra le varie cose che dovevamo fare che facciamo da professionisti diciamo facciamo perché le dovevamo fare però insomma poi finito di girare ognuno per i fatti suoi giriamo una cosa a una messa battista a Memphis quindi la classica situazione con chiesa con la messa col coro gospel con alla Blues Brothers Blues Brothers ho visto la luce e giuro che siamo due atei ma non so dirti che cosa è successo abbiamo visto la luce siamo usciti di lì piangendo ognuno per i cazzi suoi piangendo ci siamo abbracciati e da lì è proprio secondo me il nostro rapporto è voluto di di 200 chilometri nel senso ci siamo chiesti scusa per quello che ci avevamo detto siamo andati avanti poi a fare e il pezzo dopo siamo andati a registrare una canzone degli Oasis nello studio dove registrava Elvis Presley siamo andati lì e praticamente il suo studio dove adesso per i turisti ti danno la possibilità volendo di registrare una cosa lì e ti stampano in tempo reale il cd e quindi ce ne siamo usciti con la nostra canzone d'amore dopo aver fatto pace forse la suggestione del coro gospel vai a sapere non lo so sì un po' tutta l'emotività cioè quel tempo di quel viaggio è come se fosse durato cioè ci è sembrata mezza vita perché eri dall'altra parte del mondo obbligato a stare forzatamente insieme e lavoravamo 17 ore al giorno madonna tutti i giorni in continuazione giravamo tutto giravamo tutto sempre in giro cioè o dormivi o stavi girando e quindi era anche lì era snervante ma era l'età giusta in cui accollarti sta cosa hai anche le energie per fare questa roba esatto comunque non ti ci facevo così così egocentrico comunque con un ego così grosso sembri così alla mano tranquillo invece quando ti scateni anche te qui secondo me le due cose sono compatibili cioè l'educazione essere alla mano non è incompatibile con l'ego però però sì come tutti quelli che fanno questo lavoro io poi cerco di farlo tra virgoletti in maniera sana quindi appunto comportandomi bene con le persone cerco però però l'idea che ognuno di quelli che fa questo lavoro ha di se stesso è smodatamente maggiore rispetto a quello che vale veramente ma è interessante questo sicuramente sarebbe figo approfondire poi te hai fatto anche un programma che non c'entra nulla con tutte queste cose di cui abbiamo parlato ma che riguarda un argomento che mi tocca particolarmente cioè l'arte contemporanea o comunque l'arte in generale cioè ti hai fatto un programma che si chiama potevo farlo anch'io ed è un programma tutto strutturato appunto per raccontare con un critico d'arte accanto a te le opere più famose dell'arte contemporanea mi racconti un po' questa esperienza perché sono veramente curioso perché il potevo farlo anch'io è una frase che sentiamo sempre di più sempre di più ma non solo con l'arte ora anche con internet twitch e cosa ci vuole metti una telecamera lì ti filmi racconti lo posso fare anch'io tutti possono fare tutto anche la politica e mi puoi raccontare un po' l'esperienza di questo programma che sono veramente interessato sì allora a me di base piace come attitudine nella vita smitizzare qualunque cosa cioè sono veramente poche in questo momento non me ne viene in mente neanche una le cose che reputo così rispettabili da ritenerle intoccabili non c'è niente che meriti una venerazione per me che vada al di là del metterla in discussione del prenderla in giro del sì dello smitizzarla cioè tendo a prendere seriamente pochissime cose l'arte contemporanea è uno dei miei interessi una delle cose su cui quando c'è stata l'opportunità ho detto vabbè questa cosa potrebbe essere potrebbe essere interessante insomma non sono un grande esperto però mi stuzzica l'argomento un po' mi piace e soprattutto sono un convinto sostenitore della tesi che non è vero che potevi farlo anche tu ok chi fa le cose è perché le sa fare chi ottiene un risultato facendo le cose è perché è più bravo di chi le sa fare a farle potevo farlo anch'io non vuol dire niente però mi faceva ridere come spesso l'arte contemporanea prestasse veramente il fianco a questo tipo di atteggiamento del potevo farlo anch'io no? cioè la banana di Caterham appeso al muro sembra un bersaglio fatto apposta per tutti quelli che col fucile del potevo farlo anch'io gli vogliono sparare gli vogliono sparare contro e quindi è venuta fuori in un periodo in cui era prima che incominciassi a fare X Factor MTV era appena finita c'è stato questo anno e mezzo di tempo in cui nel frattempo ero entrato un po' nel cast di quelli che è il calcio però era una cosa piccola che non mi richiedeva grande impegno e che comunque durava un giorno e mezzo alla settimana e quindi è stato quell'anno e mezzo in cui ho provato a fare tante piccole stupidatine ma un po' come come Twitch nel senso io ho finito X Factor a dicembre sapevo che avrei avuto dei mesi liberi in realtà pensavo di averne un po' di più liberi ho ricominciato a mettermi al lavoro un po' prima però pensavo di avere un po' di mesi liberi e ho detto nel frattempo studio questa cosa qua un po' come ho fatto quel programma lì sull'arte contemporanea perché un po' mi interessava e dal punto di vista professionale non mi è servito a niente però dal punto di vista umano ho imparato un sacco di un sacco di cose ho conosciuto un sacco di di scene di scene diverse da quella che da quelle che abitualmente frequentavo quindi insomma è bello quando hai la fortuna di comunque arricchirti col tuo col tuo lavoro perché insomma secondo me chi fa il mio lavoro ha anche un po' l'obbligo morale di doverlo usare cercando di migliorare se stesso il più possibile quindi non passarlo semplicemente in onda a dire delle cose ma di sfruttare le occasioni che poi vengono per capirne un po' di più di qualcosa e entrare in contatto con cose che già ti piacevano ma che volevi conoscere più a fondo insomma sono belle occasioni di solito quando ho tempo e quando posso cerco di coglierle no ci sta anche perché hai fatto sempre cose diverse comunque hai tentato hai esplorato anche Twitch è una delle tante cose che hai fatto e che hai tentato di fare infatti poi si arriva al tuo talk show ti hai voluto fare il talk show all'americana il late show appunto io quando ho visto le puntate ho detto minchia ecco da quello che hai fatto prima a quello secondo me c'è nel mezzo un oceano perché sembrava una struttura enorme un lavoro infinito poi dimmi te magari mi sbaglio ma nella scelta degli ospiti l'attività e tutto sembrava veramente una macchina produttiva diversa da quelle che hai affrontato prima poi dimmi te no guarda sono contento che ti abbia dato questa sensazione perché la fatica per fare per arrivare lì è stata sotto mille aspetti enorme e quindi quando fai fatica è bello quando qualcuno se ne accorge perché poi secondo me parte della bravura di chi fa il nostro lavoro è riuscire cioè io penso che chi mi guarda non debba pensare a quanto hai faticato per preparare questa cosa se la debba semplicemente godere tu che però fai parte di questo mondo così mi fa piacere che invece chi è appassionato di comunicazione di intrattenimento eccetera eccetera invece capisca e pcc è stata l'unica cosa che io ho sempre voluto fare dal primo minuto in cui sono andato in onda in televisione poi per fare un programma come pcc servono tantissime cose prima di tutti la credibilità ok per fare un programma del genere devi essere credibile chi viene da te deve sapere dove sta andando e perché lo sta facendo e deve sapere che quella cosa lì gli darà un beneficio deve sapere che se viene da te ne uscirà bene deve sapere che se viene da me faremo una clip che poi farà visualizzazioni diventerà virale lo aiuterà a promuovere ai pcc come in tutti i talk tutti i late viene gente per quanto possono essere poi amici per quanto essere gente che conosce viene gente che sta vendendo qualcosa viene gente che deve vendere un disco deve vendere un libro deve vendere un film la loro stessa immagine questo è un patto che è sbagliato far finta che non esista bisogna essere bravi però a non farlo pesare secondo me sul telespettatore e quindi serve credibilità e pcc è l'unica cosa che ho sempre voluto fare e ogni singolo programma che io ho fatto nella mia vita zig compreso mentre lo facevo la mia testa stava cercando di capire cosa di questo potrà essermi utile per fare quest'altro quando c'era TRL cercavo di metterci dentro momenti che non c'erano mai stati cioè momenti di intervista one to one che solitamente a TRL non esistevano ogni centimetro che mi veniva concesso che ovviamente non era mai immediato cioè questa cosa delle one to one me l'ha andata al terzo anno di TRL dopo me lo sono fatto da solo per un anno per un anno abbondante dopo che ho fatto il primo anno con Giorgia dopo ho fatto il tour in giro con gli altri a quel punto ti sei guadagnato la credibilità di dire mi fate fare questa così dentro TRL mi fate fare un pezzettino di questa roba qua si prendi e porta a casa e tutto questo poi è diventato e PCC e PCC senza X Factor probabilmente non l'avrei potuto fare ok perché X Factor è stato quello che mediaticamente mi ha dato la consacrazione per essere uno che fa le cose bene no io con con X Factor mi sono guadagnato la fama di essere uno che fa le cose fatte bene e quindi quando uno viene da me sa che non viene a fare delle figure di merda sa che non non sono uno di quelli che gli fa le imboscate gli fa le cose a tradimento che lo mette in difficoltà forzatamente cioè tutte le cose in cui ai PCC o io o l'ospite eravamo in difficoltà erano comunque in qualche modo concordate e pattuite ma nel senso buono del termine cioè facciamo sta roba che è divertente se ci diciamo una cosa per cui sembra che mi stai facendo il culo e allora la facevamo io infatti ti sarò sempre grato per lo sketch di Mastandrea e Giallini milanesi che fanno l'aperitivo che fanno i fuorisede quello era andato bene era stato bello mi hai riportato vabbè poi i loro due sono due geni ecco poi lì il materiale umano quando hai due persone così è forza sei riuscito a farli rivestire i panni dei buttafuori più che altro che era una cosa anche quella che 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 eri fan della serie? minchia sì prima di Boris c'era quello e la gente non se lo ricorda prima di Boris c'era un buttafuori che era fatta con due lire e lo misero un'estate tipo agosto sulla Rai non lo vedeva nessuno io ero sempre lì anche io a me avevano conquistato in uno sketch da 30 secondi in cui erano lì davanti alla porta eccetera eccetera dove mi pare il giallo dava una statistica sui cinesi sì no sui giapponesi diciamo questa cosa dei giapponesi così ma te l'hai mai conosciuto un giapponese e Valerio gli fa forse una volta cioè sì una volta sì ma forse era un cinese poi io li sono cioè ma sì perché le battute non erano battute da sganasciare però loro avevano i tempi quelle facce sì no no era tutto era tutto bellissimo era tutto bellissimo io li vidi solo perché ho sempre avuto debiti alle superiori quindi l'estate ero sempre a studiare a casa e quindi me li sono potuti vedere se no me li sarei persi anche io come la maggior parte se un giorno se un giorno ti capiterà di avere Valerio ospite così digliela sta cosa perché è come è come per me Lazarus cioè sono quelle cose magari piccole che non tutti le hanno vise così ma a cui ognuno di noi tiene tantissimo ecco se ti capita Valerio se gli fai complimenti però tutta fuori lui è felice io ho visto tutto rimasto Andrea e Di Giallini perché sono due dei miei attori italiani preferiti quindi proprio so tutto mi garbano mi garbano a bestia e poi ovviamente ho intervistato Fabri Febra per cui ho un debole tremendo cavolo però siamo in sintonia guarda hai nominato due che in questo ambiente io vado d'accordo veramente con la maggior parte della gente quantomeno di facciata vado d'accordo con il 100% delle persone ok in realtà con il 95% delle persone che comunque mi sembra un buon numero in un mondo dove nessuno si parla l'uno con l'altro no comunque vado d'accordo con tutti però ho stretto pochi legami di amicizia uno è Federico Russo uno è Cesare Cremonini forse non su questo livello però c'è un forte legame di affetto e stima in qualche modo con Fabri e poi l'altro che invece è proprio diventato il mio fratello maggiore è Valerio Mastandrea che ho conosciuto sul set dell'unico film a cui ho partecipato che era un film con un cast devastante cioè era una roba una roba incredibile scritto Mastandrea Guzzanti Laura Morante Pannofino Giallini Caterina Guzzanti Caterina la Cate la Mastronardi una roba incredibile scritto dagli autori di Boris quindi mi sembrava un sogno solo che me l'avessero me l'avessero chiesto e lì io ero arrivato su questo set tra l'altro il mio ruolo era quello di uno di un ragazzo fuori dal suo contesto non essendo io un autore né particolarmente bravo ad esserlo ero facilitato dal fatto che ero veramente fuori contesto lì cioè io vivevo 24 ore su 24 fuori contesto non soltanto quando si giravano le scene perché non conoscevo nessuno non sapevo come funzionava il mondo del cinema e Valerio che ha una sensibilità enorme è stato il primo che proprio mi ha preso sotto l'ala e da lì mi sentivo protetto ed è nata una bella amicizia per chi lo chiedesse in chat ragazzi il film è ogni maledetto natale quindi ogni maledetto natale sì ok esatto invece da me stanno chiedendo le regole di spurchi a filetto per dire minchia quella scena dietro completamente assurda a un certo punto si riuniscono intorno al tavolo sì no molto carino e no ti volevo chiedere che tipo è lui da intervistatore cioè come l'hai l'hai trovato fibra un ospite perché lui dicono è un po' orso no non è molto avvezzo a interviste però magari sono tutte cazzate allora è cambiato è cambiato molto negli anni lui credo che abbia fatto la prima anche lui la prima cosa in tv a TRL a Padova boom totale di Fabri Fibra boom in linea col suo personaggio quindi picco enorme di fan quelli che lo seguivano da prima quelli che finalmente vedono e possono dire in quel momento lì sai perché quando uno arriva dall'underground con dei numeri enormi alla gente poi quando quando hai un successo mainstream stai sul cazzo però c'è un un piccolo momento in cui chi ti seguiva da prima può bullarsi del tuo successo mainstream dicendo io lo seguivo da prima poi dopo un po' inizia a dire eh vabbè non è più quello di una volta però c'è un momento in cui è come se fossi dio per loro no? perché gli dai la possibilità di dire io ti conoscevo da prima quindi era il boom di questi che erano tanti che lo seguivano da prima più il boom di quelli a cui stava sul cazzo perché fabri non è un personaggio che arriva e non te ne accorgi quando arriva è arrivato uno nuovo cioè è arrivato fabri fibra e e non è più come prima cioè no? c'è una cosa nuova e quindi piazza in visibilio per lui metà e metà tra quelli che lo veneravano e quelli che gli tiravano le uova tanto che la sua rima mi regalano le tagliatelle quando mi vedo a TRL deriva da quel giorno perché gli tiravano le uova quindi lui dice con le uova ci faccio le tagliatelle eccetera eccetera quindi è venuta da lì la cosa persona che adoro adoro perché quando io prima dicevo ti facevo i nomi di quei pochi che sono miei amici e fabri un po' meno non perché sia meno degno dell'amicizia o perché sia meno simpatico degli altri anzi fabri ha una complessità sua e io essendo piemontese io non sono uno che va cioè se vedo uno sulle sue io non sono uno che va a scardinare le sue cose cioè non sono uno che ti tira dentro se vedo che sei sulle tue io rispetto il tuo essere sulle tue e mi faccio un passo indietro anch'io però c'è un feeling secondo me c'è un feeling tra di noi perché ci capiamo no e quindi lui è un personaggio difficile all'inizio adesso è cambiato molto secondo me poi con l'esperienza si è molto tranquillizzato però all'inizio con l'età però lui non era giovanissimo cioè nel senso è arrivato alla fama più grande di me quindi quella botta lì l'ha avuta non giovanissimissimissimo però aveva molta paura di essere giudicato secondo me non si sentiva tanto sulle sue però io l'ho sempre trovato una persona talmente genuina e figa che io mi sono innamorato di lui dal punto zero e quindi poi andando avanti con questa conoscenza che appunto non sia creata dall'oggi al domani cioè negli anni ci si conosce si impara ad avere fiducia l'uno dell'altro capisci che di te mi posso fidare no e quindi ci siamo un po' aperti e adesso abbiamo un rapporto un rapporto carino però lui secondo me e lo vedi nelle canzoni cioè il rap a me è un genere che piace quindi di base è una cosa che mi piace avere nelle orecchie sentirlo cioè sono fan di tanti Fabri ha uno spessore lui per me è un romanziere cioè Fabri scrive scrive dei le canzoni le canzoni sono dei racconti cioè ha uno spessore raro nel suo nel suo genere che è un genere dove serve comunque anche il più scarso rapper ha uno spessore secondo me maggiore di un cantante pop qualunque perché perché per fare il rap devi tirare fuori di più degli altri no devi tirare fuori di più degli altri o nasconderti nei soliti cliché Fabri ha uno spessore pazzesco no sono sono d'accordo con te io l'ho scoperto tramite MTV con applausi e poi sono andato a ritroso come tutti quelli della mia generazione e lo seguo da sempre anche quando poi la gente mollò perché era diventato troppo commerciale sempre seguito quindi insomma capisco che anche da intervistatore possa essere cioè mettere in soggezione se ne parlava prima però cioè stavo pensando a te che è forse è l'ultima canzone in ordine di tempo che è uscita che è una canzone d'amore cazzo ragazzi ma è una canzone d'amore devastante cioè è un'introspezione devastante quella roba lì più che altro stavo pensando a te che è una roba che ha girato tantissimo in radio quindi al ritornello accattivante così ma non è un un difetto no 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 quando poi c'è una pesantezza di testo così cioè avercene io con quella canzone e con quel cd in generale ma specificatamente con quella canzone avevo capito che lui era maturato definitivamente perché lui raccontò in un'intervista che aveva nel cassetto un sacco di canzoni d'amore ma che non buttava fuori perché il suo pubblico non era pronto a quelle canzoni d'amore le avrebbe rifiutate sì sì ma questo è fibra io voglio ascoltare fibra che spacca tutto dissa non posso ascoltare le canzoni d'amore fibra e invece con Fenomeno se ne è sbattuto il cazzo ha fatto il suo e ci ha dimostrato che adesso lui butta fuori quello che vuole buttare fuori e vaffanculo quella roba lì mi ha fatto capire che era maturato e non ci pensava più questa roba qua è molto interessante e io ti voglio fare un'ultima domanda perché siamo in ambito nerd io purtroppo non posso farti domande calcistiche perché non seguo il calcio però se io ti dicessi masters te cosa rispondi? of the universe sono guarda capparezza mi ha aiutato a capire questa mia ossessione per i master che sono di gran lunga il mio giocattolo preferito guarda intanto mi ha aiutato a capire una cosa io mi sono sempre considerato come un figlio del proletariato working class hero no? in realtà ripensare ai miei giocattoli mi fa pensare che avevo un sacco di roba cioè forse mi sono sempre overstimato dal punto di vista del martire della società la realtà vera è che poi mia mamma e mio papà mio papà dimostrandomelo col lavoro e mia mamma con l'affetto anche in una condizione di di poca disponibilità non non mi hanno mai fatto mancare niente mi hanno dato anche più di quello che probabilmente che che si poteva pensare di avere nella nostra situazione posto che erano gli anni 80 quindi ci sentivamo tutti economicamente uforici anche quando si aveva poco no? perché erano gli anni in cui c'era ottimismo però i giochi mi hanno fatto capire che non ero così povero come pensavo perlomeno non dal punto di vista dei giochi e i master erano di gran lunga il mio gioco preferito e Caparezza mi ha dato una chiave di lettura interessante del perché ancora oggi io ho una parete a casa che adesso forse mia moglie mi butterà giù e quindi sposterò sposterò qua nel mio studio diceva i giocattoli sono l'equivalente di una fotografia ed è esattamente quello perché nella mia ossessione per i master io ho sempre detestato le collezioni e i collezionisti nonostante spesso sia caduto nella trappola del collezionismo no? però dicevo ma che senso ha collezionare degli oggetti che senso ha tu sei un collezionista dalla faccia no 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 ma anch'io cioè sono pieno di puttanate sono pieno di puttanate senza senso qualcosina ma poca roba poca roba ma ti dico lo sono anch'io ma ho sempre ogni volta che prendevo qualcosa dicevo ma che cazzo me ne faccio ma Alessandro ma ti sei incoglionito ma che cosa perché cioè che spazio stai occupando e effettivamente i master adesso soprattutto stanno un po' tornando di moda ne stanno facendo di mille nuovi eccetera eccetera mi rendo conto che la gioia di avere quello mio da piccolo in mano o di riempire un vuoto nella mia collezione di master con un master di quell'epoca che io vedevo a casa di un mio amico ma che io non avevo non ha paragone col comprarmene uno nuovo adesso cioè guarda ho preso questo iman gigante qua ma è enorme che è fatto sì è un iman gigante è fatto come quelli piccoli l'ho visto mi piace cioè è bello però è una di quelle cose che quando l'ho comprato ho detto Alessandro ma che cazzo fai ma che cosa rappresenta questa cosa qua per te niente perché per me il legame con il giocattolo è il legame con quegli anni della mia vita quindi questo che è evidentemente una cosa che quando io ero piccolo non esisteva chiaro a me non dà nessuna emozione l'ho visto mi è istintivamente piaciuto l'ho preso adesso lo guardo lo tengo qua va bene cioè vi ricordo i men però il giocattolo è una fotografia di quando eri piccolo no? è un'emozione io ne ho alcuni che mi ricordo esattamente cioè proprio nerdismo a manetta qua Beastman io l'ho ricevuto per la Befana dell'86 in piazza Malaspina a Tortona perché c'era la festa dei bambini con una finta Befana che raccoglieva probabilmente l'ho supposto dopo io pensavo che fosse la Befana che me l'avesse regalato perché conoscevi i miei gusti probabilmente i genitori davano alla Befana i giocattoli e la Befana veniva da te e te li dava per far vedere che la Befana Man at Arms non ce l'ho mai avuto l'ho sempre desiderato quando adesso me lo sono comprato mi sembrava un sogno cioè mi sembrava Natale il giocattolo insomma il master così è proprio un modo per ritornare ad avere sei anni e anche io io ho problemi di memoria ma queste robe non so perché e me le ricordo come se fosse ora io mi ricordo quando ho sbustato il mio primo pacchetto di carte Pokémon che era il primo maggio del 1999 quindi figurati un po' primo maggio su coraggio eh sì sì no no ma ti capisco ti capisco alla perfezione però scusa questo qua può essere il giocattolo dei tuoi 40 anni del tuo del tuo essere adulto quindi magari fotografa il ricordo non di quando eri bambino ma di quando sei un adulto io la penso un po' ma io a 40 anni non ho bisogno di giocattoli non no 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 non ho più questa necessità cioè mi rendo conto e i miei master il muro dove c'è i miei master è posizionato all'ingresso della camera da letto e io tutte le sere prima di andare a dormire non entro in camera da letto direttamente accendo un attimo la luce gli butto un occhio e poi vado a dormire cioè non è che mi metto lì come un pazzo a guardarli e me li studio però gli do un'occhiata queste cose non si fanno gli do un'occhiata cioè mi fa proprio star bene mi riporta una dimensione piedi per terra cioè è una cosa che mi mi resetta un po' un po' tutto mentre questo si adesso 40 anni ma 40 anni non hai bisogno dei giocattoli caro Dario smettila con i giocattoli col cazzo non ne hai bisogno no no lo smetterò mai carte, giocattoli video gioie tutto voglio tutto quello che c'è io c'è anche una collezione di giocattoli di Toy Story infinita non la darò mai via nemmeno sotto tortura perché mi ricorda di quando ero ragazzino è quella cosa lì però io ho capito i giocattoli di Toy Story quando uscì il primo Toy Story facevano schifo erano tutti fatti male ora sono belli perché c'è tutto un processo diverso moderno quindi ricordi ma a me i moderni i moderni non piacciono cioè mi sembrano anzi ti dirò di più mi sembrano un insulto alla memoria dei miei sei anni no ma va ma va i giocattoli nuovi sono un'espressione del capitalismo tipo che sfrutta i tuoi ricordi per farci nuovi soldi è una filosofia anche quella però il collezionismo è quello non ha alcun senso è solamente un hobby che accresce se stessi ecco aiuta io dico che aiuta a vivere e non a sopravvivere l'hobby però non serve fondamentalmente a un cazzo cioè le gioie vere sono altri il cibo i figli viaggiare il sesso queste robe però qualcosina in più ci sta sempre bene secondo me i Funko Pop li collezioni? preferirei morire adesso ah sì perché collezioni Funko Pop? no 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 per niente ogni tanto mi capita che me ne regalino me ne regalino e e di base con i pochi perché me ne hanno sapendo della mia passione per i master me ne hanno regalati dei master e non mi hanno dato nessun tipo di emozione semplicemente però siccome ho tanti personaggi li ho messi vicino al loro riferimento vintage diciamo così e quando chi li colleziona ha visto che li ho aperti mi fa ma sei pazzo li hai aperti sì conosco li avrei anche schiacciati con la macchina se fosse per me però erano lì cioè il mio dottore il dottor sex Robaldux le tiene nella scatola e li conserva nella scatola anche è così però dice però io non sono d'accordo con questa filosofia i giocattoli vanno toccati collezionati esposti vanno usati vero? sì sì vanno usati vanno usati anche vabbè comunque sì sì Alessandro io adesso con le figlie le uso spesso comunque come scusa per rigiocare con i master cioè mettiamo i master nel castello facciamo la setup mettiamo i master nel castello facciamo tutto questo ci sta ma è la migliore scusa quella lì però io diversamente da te ecco da collezionista non li farò mai non le farò o li farò mai entrare nella mia stanza non possono toccare assolutamente nulla avranno i loro giocattoli avranno i miei guai educale no no assolutamente quando la gente vede la mia parete di master fa ma come fai con due figlie non toccano sanno benissimo che il crimine peggiore dentro quella casa è toccare i miei master si educano si educano fai i figli tranquillo li puoi educare ma sì assolutamente quando ci si tranquillizza e questo periodo finisce ci penserò ora non è il momento vai stacci dentro Alessandro grazie mille amico mio grazie a te piacere di averti conosciuto grazie grazie anche per me è stato un piacerone è stata una bella una bella cavalcata è stato un bel tuffo anche nel passato quando abbiamo parlato in tv quindi è stato molto bello grazie mille di tutto e buona fortuna per il lavoro per twitch per tutto grazie di tutto ciao grazie mille a te un abbraccio ciao Dario ciao i tuoi ragazzi che ti seguono ciao 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 forte eh bello spitone veramente bello spitone mini no la mosca la mosca è la moschina ma riposati un po' amore che figa della mosca dormi no la mosca non la mosca non la mosca non la mosca